I wish people were this nice to me in my country, so... Ma vorrei che la gente fosse così carina con me anche nel mio paese, grazie. Nemo profeta in patria. Tim Burton, quando ha capito che avrebbe fatto il regista? C'è stato un momento, fin da piccolo, oppure a un certo momento della sua vita? Anzi, della tua vita perché ci diamo del tutto. Ma io sono cresciuto forse come te con il cinema, sia il cinema americano, ma anche di altri paesi. I registi italiani, Fellini, Bava, Dario Argento, qualcuno ce n'è qui, ho lavorato con Dante Ferretti.